C'hanno fatto... 3, mi serve, va bene? 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 L'ossigeno l'abbiamo messo 32 di frequenza L'ospigliatore Quasi, ascolta Mi sono detto Il vecchio antico comendo Ce la fai con la canetta La scena Vediamo se l'epo Il comendo corrisponde Qui, dottoressa, il secondo Se fate, fate il preleve E provociate, va bene? Passiamo un po' la luce Anche perché non lascia lì Ora vai L'ossigeno l'abbiamo messo Ma ci ha fatto il preleve Sennò tutti i settimane Vai Posto Qui ci sono i moduli con il ricastro Elettrogramma è fatto Tanto dolore Si può mettere Si può mettere Si, mettiamo una morfina Dottore? Una morf? Si Per finire Si, certo No Qui ragazzi andiamo Ma c'è ciò mai Non so C'è tanta risotturazione Ecco Come finiamo Vai, guardami il fotorazio Buongiorno Lascia risparmi Sicuriamo un PNX Un PNX per testo, dottore Vogliamo